Chi avrebbe voluto Vito Antonio Labbianca giù dallo scranno più alto di Palazzo Gentile resterà scontento o perlomeno dovrà ancora attendere. Nella scorsa seduta l'esponente di Sud al Centro è stato infatti riconfermato presidente del Consiglio Bitontino. Missione fallita dunque per Michele Abaticchio e per i consiglieri che da mesi ne avrebbero voluto la testa. La proposta di revoca, firmata da 12 membri della maggioranza, è stata regettata, con la complicità degli stessi detrattori. La votazione, svoltasi in modo segreto su richiesta della minoranza e di Daucelli, ha infatti registrato come risultato 15 sì, 7 no e una scheda bianca. In Soldoni, a rendere vano il tentativo di sfiducia, ci hanno pensato proprio due Abaticchiani, oltre che gli assenti Rucci e Ciminello, appartenenti alla stessa coalizione. I franchitiratori, insieme all'opposizione e al gruppo di Sud al Centro, insomma, non hanno permesso di raggiungere quota 17, ossia due terzi più uno dei consiglieri. Occorre prendere atto che la maggioranza relativa non è soddisfatta del lavoro condotto dal Presidente. La bianca dovrà farsene carico, ha commentato il Sindaco, grande sconfitto della votazione. Michela Baticchio dovrà infatti fare i conti con una maggioranza meno fedele del previsto. Dovrà guarire i mal di pancia degli scontenti e dello stesso gruppo di Sud al Centro, risentito per quella che ha definito un'ingiustificata aggressione nei confronti di un loro esponente. Un nuovo terremoto a Parazzo Gentile sembra dunque vicino e solo nelle prossime settimane potremo capire quali saranno i risvolti di questa vicenda.